Riparto da zero con la fotografia di matrimonio, questo è il titolo di questo video dove più che un video questa sarà proprio una vera e propria video lezione sul marketing e sarà veramente di altissimo valore, perciò se sei un fotografo di matrimoni o sei un aspirante tale seguimi in questo video perché che cosa facciamo insieme in questo video? Allora in questo video, proprio per il concetto che riparto da zero, io ti faccio vedere come vado a fare una sorta di rebranding della mia attività di fotografo, quindi se mi segui sai che oltre che essere un consulente professionista di marketing specializzato nell'aiutare i fotografi di matrimonio ad aumentare i loro guadagni, io sono anche un fotografo di matrimoni, ok? Quindi che cosa succede? Succede che io sono in un momento in cui devo riorganizzare la mia attività come fotografo per diverse ragioni che adesso ti vado a spiegare. Quindi io ho proprio necessità di ripartire da zero, cioè in che senso? Devo ricreare da zero tutta la mia strategia di marketing, voglio farlo e voglio ristabilire quello che deve essere il mio posizionamento nel mercato perché voglio proprio rivoluzionare la mia attività come fotografo, ok? Quali sono i motivi che mi spingono a fare questo? Allora, cosa succede? Ti spiego la mia situazione attuale, mi raccomando seguimi perché sarà una lezione veramente importante, veramente di altissimo valore che ti farà capire come tu potrai stabilire il tuo posizionamento e la tua strategia di marketing perché ti faccio proprio l'esempio concreto di quello che faccio io. L'importante è che non mi copi, ok? Quindi non copiarmi perché spesso vedo che c'è la tendenza a copiarmi sotto vari aspetti, quindi non mi devi copiare. Allora, situazione attuale, quindi come sempre sfruttiamo la lavagna, anzi mettiamola anche a schermo intero così non abbiamo distrazioni, io mi metto piccolino e ti spiego qual è la mia situazione attuale. Allora, la mia situazione attuale è che io, vabbè, faccio il fotografo di matrimoni dal 2017, ok? Quindi questo è l'ottavo anno, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, l'ottavo anno. E dal 2025 voglio apportare diversi cambiamenti, ok? Perché appunto la mia situazione attuale prevede che io sia riconosciuto fin dal 2019 per essere l'ideatore del metodo ibrido, ok? Se mi conoscete, se mi seguite sapete che io sono l'ideatore del primo metodo ibrido in Italia e quindi foto e video, foto più video da solo ai matrimoni. Questo mi ha permesso di posizionarmi in che modo? Mi ha permesso nel corso del tempo di posizionarmi come quel fotografo che appunto fa foto e video da solo, con l'ausilio solo di un collaboratore, che poi è mia moglie, per certi momenti della giornata, ma essenzialmente un unico professionista che si occupa di entrambe le cose. Questo mi ha sempre permesso di spingere su tre principali vantaggi, che sono no stress per la coppia, per il fatto che non c'erano 5-6 operatori, ma uno soltanto, massimo due. Poi l'altro vantaggio era la convenienza. Ok, perché la convenienza? Perché logicamente, ed è questa forse la cosa che più di ogni altro cambierà, perché io naturalmente, essendo da solo, riuscivo a fare un prezzo piuttosto conveniente, che si aggirava intorno ai 1800-2000 euro. Ok, e il terzo vantaggio era, diciamo, in qualche modo la qualità intesa come coerenza. Cioè, io dicevo, non hai il fotografo che ti fa le foto e il videomaker che è un'altra persona che ti fa il video e quindi foto e video avranno due stili differenti. Essendo lo stesso professionista che ti fa foto e video, ci sarà una coerenza di stile tra foto e video. E quindi questi sono i vantaggi su cui io ho sempre spinto, su cui io mi sono sempre differenziato dalla concorrenza per il metodo ibrido. Ok? Altre cose riguardanti la situazione attuale che io devo considerare a livello, diciamo così, aziendale, è che io ho anche un'attività di consulenza. E quindi io non è che da solo posso riuscire a fare 200.000 cose. Quindi cosa succede? Che io ho dovuto prendere una decisione, naturalmente, siccome l'attività di consulenza sta crescendo sempre di più, io mi ritrovo a dover gestire sempre più fotografi, naturalmente io qui fino ad oggi facevo circa 25 barra 30 matrimoni all'anno, ok, a stagione, e quindi devo considerare tutto ciò. Quindi, che cosa voglio fare? Allora, cosa cambierà? Cambierà che il metodo ibrido non lo proporrò più. Perché? Perché avendo tantissimo da fare con la mia attività di consulenza, non posso più permettermi, non facendo più solo e soltanto il fotografo, il videomaker, non posso permettermi di portarmi a casa tutto un lavoro di postproduzione e montaggio piuttosto lungo. Perché, sai, finché fai il fotografo, postproduci le foto, fai il videomaker, monti il video, ma metodo ibrido significa che devi, oltre che postproduzione le foto, fare anche il montaggio del video. Quindi comunque un lavoro in postproduzione piuttosto importante, anche se comunque sono sempre stato ben ottimizzato, in quanto il video, il mio video, dura 6-8 minuti al massimo. Però sicuramente io voglio diminuire il lavoro in postproduzione, quindi il mio rebranding, quindi il fatto di ristabilire il mio posizionamento e rivedere tutta la mia strategia di marketing, naturalmente questa cosa è dovuta al fatto che non volendo più fare il metodo del servizio ibrido, logicamente cambia totalmente la comunicazione, ok? Cambia totalmente, quindi tutto questo è una cosa che viene eliminata. Adesso voi mi direte, cavolo Stefano, ma dopo che hai costruito negli anni questo posizionamento, sei sicuro che sia la cosa più efficace da fare? Allora, consideriamo che noi ragazzi lavoriamo in un mercato, quello del matrimonio, dove è vero che io la prima cosa che insegno è di stabilire il tuo posizionamento, è importantissimo, tuttavia siccome c'è una revenue di nuovi clienti di anno in anno, quindi non è che il matrimonio hai gli stessi clienti a cui fai il matrimonio tutti gli anni, questo ci permette di poter lavorare anche eventualmente in questo senso, cioè nel ribrandizzare la nostra attività come fotografi, senza problemi perché ogni anno ci sono clienti nuovi. Stesso motivo per il quale è semplice aumentare i prezzi nella fotografia di matrimonio. Ok? Perché non hai dei clienti che ti dicono, ah ma hai aumentato i prezzi, no, perché i clienti ogni anno sono nuovi, ok? Questo è il concetto. E quindi questa cosa verrà eliminata. Verrà eliminata anche questa cosa qui, ossia non voglio più fare 25-30 matrimoni all'anno, che comunque da solo è un numero piuttosto elevato, medio elevato, e diciamo che i 30 matrimoni sono un po' la soglia oltre la quale è necessario avere dei collaboratori, avere un team. E quindi questo numero diminuirà, diminuirà per un massimo di 20 matrimoni, ok? 15-20. Quindi, cosa succede? Succede che, in poche parole, stop al metodo ibrido, meno matrimoni, circa la metà, quindi 15-20 massimo, e prezzi più alti. Quindi per assurdo, per il concetto proprio di ciò che io insegno, quindi io quello che insegno è guadagnare di più lavorando di meno, ok? Concettualmente. Quindi io farò solo foto, non più anche video, i prezzi saranno molto più alti. Adesso te lo farò capire. Quindi lavorerò per meno matrimoni, chiederò di più, e lavorerò di meno, ok? Quindi andiamo a vedere in che modo tutto ciò avverrà, ok? Perché comunque mi sono già assegnato tutto. Tieni in considerazione che stanotte sono stato sveglio dalle 4. Alle 4 mi sono svegliato, di soprassalto ho detto ok, e ho dovuto scrivere. Io non so se vi capita mai, a me mi vengono le idee e devo scrivere. E quindi questo è successo tra le 4 e le 6 di stanotte. Ho detto, ci faccio un video in cui vi spiego, perché comunque ragazzi, la trasparenza, il fatto di potervi dimostrare che anch'io vivo le difficoltà che vivete voi, e che so come superarle, perché sono competente nel marketing, a tanti di voi cosa manca? Manca la chiarezza, manca il fatto di avere qualcuno che possa affiancarvi e dirvi cosa fare. Io lo posso fare da solo, voi potete farlo con me, con i miei servizi di affiancamento e consulenza. Quindi vi faccio vedere tutto questo. Quindi, cosa cambierà? Ok, cosa cambierà? Allora, farò solo foto. Ok? Quindi questo implica il fatto che la mia comunicazione cambierà totalmente, tant'è che negli ultimi mesi non ho più pubblicato niente, perché sapevo che questo passo doveva arrivare prima o poi. e soprattutto ho creato un profilo nuovo per quanto riguarda Instagram la mia attività di fotografo, proprio perché voglio ripartire da zero con questa nuova forma comunicativa. Solo foto, poi prezzi, adesso li vediamo, quindi prezzi completamente nuovi. Poi, ho detto, idealmente 15 matrimoni, 20 al massimo, con tutto quel che ne consegue, perché queste sono le cose che cambiano. Ok? Adesso, da cosa devo partire io? Adesso ho detto, ok, devo ripartire praticamente da zero. Quindi cosa devo fare? Devo fare con me stesso quello che faccio, ovviamente, con i fotografi. Quindi, qual è la prima cosa che faccio con i fotografi che inizio a seguire? è il posizionamento, ok, che cambia totalmente. Il mio posizionamento prima era il primo fotografo in Italia che ha ideato il metodo ibrido, che fa il servizio ibrido con questi e questi e questi vantaggi, eccetera, eccetera. E quindi quello era il mio posizionamento, la mia comunicazione, tutto quel che ne conseguiva. Oggi non è più quello, quindi facendo solo foto ho detto, Allora, sono partito facendomi due domande. Quindi quali sono quelle cose che so fare meglio, ok? Le cose che so fare meglio a livello proprio di fotografia, di fotografo, di servizi fotografici, che allo stesso tempo abbiano un vantaggio concreto per i miei clienti, per le coppie di sposi, per i miei clienti. E quindi bisogna avere un match tra queste due cose, ok? Quindi se tu sei in una fase in cui dici, ok, sto partendo, oppure non ho mai avuto un posizionamento forte nel mercato, non so come farmi riconoscere dei miei clienti, eccetera, eccetera. Bene, fatti queste due domande, queste due questioni. Quindi quali sono le cose che so fare meglio e che abbiano un vantaggio concreto per i miei clienti? Io ho racchiuso queste cose che mi sono scritto nel cellulare in... Tatata, ok. Ho racchiuso essenzialmente tre vantaggi. Ah, i tre vantaggi sono... Primo vantaggio che è... No, fotografo simpaticone. Allora, vabbè adesso poi te li spiego. Secondo vantaggio, né reportage... E attenzione, questi vantaggi devono anche differenziarmi dalla concorrenza, differenziarmi né reportage né classico e sarete guidati. Poi magari questi punti ci sta anche che li modificherò, o comunque li migliorerò. Ok, adesso parliamo di idee che mi sono venute in mente, però che vanno subito buttate nero su bianco. Allora, no fotografo simpaticone. Cioè una cosa che ho notato negli anni con le decine e decine di testimonianze, di recensioni dei miei clienti, è che i miei clienti si sono sempre trovati bene con me, proprio perché ho un carattere discreto e in molti frangenti della giornata nemmeno si accorgevano della mia presenza. E quindi spesso i miei clienti rimangono stupiti del bel lavoro che faccio a fronte del fatto che però non mi faccio notare e sono discreto, ok? Che non è reportage, attenzione. E quindi una cosa su cui voglio far leva è che io non sono il classico fotografo simpaticone che vuole fare il simpatico con te, che ride, che fa le battute, che quando fai le foto ti dice sempre oh sorridi, sorridi, ah dai ragazzi, eh eh ah ah. No, perché non fa parte del mio carattere, perché reputo che la maggior parte dei fotografi in qualche modo si sforzino di fare i simpaticoni quando non serve assolutamente a niente, anzi spesso mette a proprio, mette a disagio la coppia. Mi ricordo anch'io per il mio matrimonio, dieci anni fa ormai, che il fotografo ci diceva sempre sorridete, sorridete, ok va bene, però a un certo punto rompi anche un attimino le scatole. Quindi queste cose le devo comunicare ai miei clienti. Io non sono il classico fotografo simpaticone, ok? Poi magari tu sei simpaticone, ti piace, i tuoi clienti lo apprezzano, ma quella è una cosa tua. E secondo vantaggio, io non sono né un fotografo di reportage, né un fotografo classico. Quindi con me non hai il reportage e non hai la fotografia classica. Quindi basta tutti questi fotografi che ti dicono che ti fanno sto reportage senza pose, eccetera eccetera. Non esiste, ok? Questo è quello che dico io, quello che devo dire io per convincere i miei clienti. E allo stesso tempo però non sono nemmeno un fotografo classico, quindi non sono un fotografo che fa zero pose, ma non sono nemmeno un fotografo che ti mette continuamente in posa, ok? Quindi di addio a ciò che fanno tutti gli altri. Mentre gli altri continuano a dire che o sono reportage o sono classici, diciamo, in modo diretto o indiretto, io non sono né uno né l'altro, ok? Già questo non lo diceva però. E poi terzo punto, sarete guidati. Proprio di conseguenza al secondo concetto, sarete guidati da me. Quindi, come cavolo fate a fare le foto, soprattutto dopo la cerimonia, se io non vi guido in ciò che c'è da fare? Non parliamo di pose, parliamo di una guida, ok? Che è un concetto diverso. Voi non dovete mettervi in posa, ma non esiste nemmeno che io non vi dica cosa fare. Perché se io non vi dico cosa fare, come alcuni dicono, ah no, a pose nessuna foto in posa, ma la coppia non ha mai fatto delle foto prima, non parliamo di modelli. E quindi io questa cosa la farò capire dicendo, guardate che se il fotografo non vi mette in posa un minimo e non vi guida, non vi aiuta, voi sarete impacciati, sarete a disagio. E quindi io invece il mio approccio è che vi guiderò in ciò che dovrete fare, ok? In modo molto semplice, nel senso, abbracciatevi, camminate, guardatevi, quindi niente di troppo, niente di posato in senso puro, ma semplicemente guidati. Quindi questi sono i miei tre vantaggi, che ho tradotto in un metodo. Quindi ho detto, come posso rimanere impresso nella mente del mio cliente e come posso tradurre in un'unica parola tutto ciò? Adesso ve lo dico, ma per favore non mi copiate, non vorrei che da domani tutti i fenomeni a dire le stesse cose che dico io. Siccome già il metodo ibrido, anche quello me l'hanno copiato, però pazienza perché tanto parliamo di persone squallide, però non copiatemi questo, perché io ho racchiuso tutto questo in un metodo che ho chiamato, l'ho scritto nel cellulare, non vorrei mai sbagliarmi, dire una cosa per un'altra. Metodo easy, mi pare, perché l'ho già scritto anche nel mio profilo da fotografo. Il metodo, metodo easy, ok? Perché ero indeciso tra simple e easy, però easy mi piace di più. Metodo easy, ok? Metodo easy, perché ho detto metodo easy? Perché easy ovviamente vuol dire semplice, facile, ok? E perché logicamente il fatto che non hai un fotografo simpaticone, che ti complica le cose, non sono né reportage né classico e sarete guidati nelle cose da fare, in modo semplice, si traduce appunto in un metodo semplice, quindi metodo easy, ok? Qual è la mia frase d'impatto? La mia frase d'impatto è Farsi fotografare Fotografare Non mi copiate ragazzi Farsi fotografare Ah, quindi da domani Al proprio Non voglio vedere voi che iniziate a dire le stesse cose che dico io Farsi fotografare al proprio matrimonio Non è Mai Stato Così semplice Ok? E quindi da qui parte Ho pensato al mio posizionamento, ai vantaggi, alle mie caratteristiche correlate ai vantaggi E alle differenze che posso avere con la concorrenza Ho racchiuso tutto in tre vantaggi Ho dato un nome a un metodo e ho studiato la mia frase d'impatto Cioè Capire queste cose E voi, il 99% di chi guarda questo video Queste cose non le sa, non le fa e non le sa fare Ok? Per quello che avete bisogno di un affiancamento con me Perché io riesco a partorire queste idee, ok? E non è facile, mi rendo conto Però è la base Perché senza capire queste cose non potete capire tutto il resto Ok? Quindi successivamente che cosa ho stabilito? Ho stabilito naturalmente i miei obiettivi Correlati alla questione dei prezzi Cioè gli obiettivi sono molto semplici Nel senso che io voglio fare 15 barra 20 matrimoni all'anno Ok? Per tutti i motivi che vi ho spiegato fin dall'inizio E i prezzi Allora, per i prezzi Io ho sempre fatto un listino Basato su una, diciamo, ABC Offer Cioè tre offerte Tre pacchetti, ok? Voglio testare Poi magari ritornerò su un ABC Offer Per l'amor di Dio Non è importante questo Voglio invece Testare un AB Offer Cioè invece che tre Fare due pacchetti Pacchetti Due offerte Quindi come ho pensato i prezzi Molto, molto semplicemente Abbiamo pacchetto Base Poi magari ci darò dei nomi diversi Ma è per capirci E un pacchetto premium Allora Anche qui non vorrei sbagliare Quindi guardo gli appunti nel cellulare Allora Ta 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 Allora Il basic Dove? Faccio 8 ore di servizio Vabbè Prima qui ci sarebbe Servizio prematrimoniale Incluso 8 ore di servizio Singolo operatore Cioè io E Galleria Online Con un quantitativo Compreso tra le 300 e le 500 foto Ok? Il premium Invece sempre Prematrimoniale Invece che 8 ore 10 ore Doppio operatore Doppio operatore Io lo intendo Fino alla cerimonia Quindi preparativi e cerimonia Poi rimango io da solo Per il ricevimento Galleria Con 400 Barra 600 Foto E Per il fatto di proporre Sono Esattamente 1090 Per il base E 2190 Per il premium Ok? Quindi prezzi più alti Rispetto a quelli che Che facevo Senza il video Quindi solo foto Allora ragazzi Allora ragazzi Questo video Lo divido in due parti Perché siamo già a 23 minuti Quindi continua a seguirmi Iscriviti al canale Attiva la campanella Lascia un like Se vuoi che proseguo con questo video Con un secondo video Con un secondo episodio Ok? In una seconda parte Andrò a parlarti di tutte le specifiche Quindi tutto quello che dovrò fare A livello di sito A livello di comunicazione Come mi comporterò A livello di contatto col cliente E quindi come andrò a strutturare In modo proprio pratico Pratico La mia attività di fotografo Dal 2025 in poi Cioè in previsione del 2025 Quindi da Da oggi in poi Quindi Per questo video Per adesso è tutto Io sono Stefano Martelli Ci vediamo nel prossimo Ciao